Entrando gli italiani nella gestione, a un certo punto il comune decise che voleva gestire in proprio il tramvai, che era una delle entrate della società. E quindi, dopo un lunghissimo patteggiamento, esiste un piccolo volume che è l'accordo del comune di Palermo con Trambai de Palermo, di cedere a una società palermitana tutte le linee tramviarie che portavano a Mandello e che collegavano anche dentro la città di Palermo parecchie zone. E in quell'occasione la società cambiò denominazione, perché dice visto che non abbiamo più tramvai, allora chiamarsi Trambai de Palermo è fuorviante, e scelse il nome Mandello Immobiliario Italo-Belga nel 1933. E si concentrò su Mandello, mentre prima aveva fatto molti lavori anche a Palermo, infatti la prima sede era Villa Galli d'Oro. Villa Galli d'Oro, dove c'è ora la scuola Garibaldi, era la prima sede che la società vendetta al comune di Palermo per i Balilla durante il periodo fascista. Grazie. Grazie.